The Football Story 2030 presenta un mito del calcio, Giuliano Sarti, nato a Castello d'Argile il 2 ottobre 1933 e scomparso a Firenze il 5 giugno 2017. È stato un calciatore di ruolo portiere e allenatore di calcio italiano. Sarti era un portiere geometrico, con un'interpretazione del ruolo priva di fronzoli e improntata sul senso della posizione, spiccava per la capacità di compiere interventi efficaci senza dover ricorrere a gesti atletici particolarmente vistosi. Questa caratteristica gli valse l'appellativo di portiere di ghiaccio dalla stampa specializzata e ombre della revolucion da Elenio Herrera. Il suo stile di gioco, che successivamente trovò in Dino Zofo un autorevole successore, gli permise di sostituire tra i pali dell'Inter il più acrobatico e spettacolare Lorenzo Buffon, senza essere rimpianto. Efficiente anche nelle uscite, era abituato a seguire l'andamento dell'azione e ad accorciare la distanza dal resto della squadra, considerandosi un precursore del ruolo. Dopo aver giocato nelle squadre San Matteo della Decima, Centese e Bondenese, giungendo titolare nel campionato di promozione regionale con quest'ultima, arrivò nel 1954 alla Fiorentina insieme a Raul Tassinari. Con la maglia viola, esordì in serie ai 24 aprile 1955 contro il Napoli. All'inizio del campionato successivo, a 22 anni, divenne titolare al posto di Leonardo Costagliola. In questa stagione, la Fiorentina vinse il suo primo scudetto nel 1955-1956, con Sarti tra i pali. Successivamente, la squadra disputò la Coppa dei Campioni, perdendo in finale contro il Real Madrid. La performance di Sarti, nonostante la sconfitta, gli valse le lodi di Alfredo Di Stefano. Nei quattro campionati successivi, la formazione toscana si piazzò regolarmente al secondo posto, con Sarti ancora titolare. Dal 1958, il suo secondo diventò Enrico Albertosi, all'inizio della carriera. Con la Fiorentina, Sarti disputò 220 partite conquistando una Coppa Grascioppers nel 1957, una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe, entrambe nel 1961. Nell'estate del 1963, si trasferì all'Inter di Elenio Herrera, che aveva vinto il campionato l'anno precedente. Nella prima stagione perse lo spareggio scudetto con il Bologna, ma vinse la Coppa dei Campioni. La vittoria in campionato arrivò nelle stagioni 1964-1965 e 1965-1966. Con l'Inter, ottenne anche due Coppe intercontinentali. Nel campionato 1966-1967, nonostante una stagione condotta sempre in testa, l'Inter perse la finale di Coppa dei Campioni a Lisbona contro il Celtic e l'ultima partita di campionato contro il Mantova, con un errore decisivo di Sarti nell'1-0 avversario, relegandola al secondo posto a vantaggio della Juventus di Eriberto Herrera. Nel 1968, a 35 anni, si trasferì alla Juventus, chiudendo la carriera in serie a come secondo di Roberto Anzolin, più giovane di 5 anni. Disputò la sua ultima stagione in serie D, all'Unione Valdinievole, ritirandosi nel 1970. A livello internazionale, Sarti debuttò in nazionale il 29 novembre 1959, contro l'Ungheria, indossando la maglia azzurra in otto partite. Nel 1967, fece parte della selezione del resto del mondo che affrontò la nazionale spagnola per celebrare il 65esimo compleanno del portiere Riccardo Zamora. Fu il terzo portiere italiano a essere convocato dalla FIFA, preceduto da Aldo Olivieri negli anni 40 e Lorenzo Buffon negli anni 50, successivamente, lo saranno Dino Zoff, Walter Zenga, Gianluca Pagliuca e Gianluigi Buffon. Dopo il ritiro dalla carriera agonistica, Sarti assunse per qualche mese la guida della lucchese. A livello individuale è considerato uno dei migliori portieri nella storia del calcio italiano, l'IFS lo ha annoverato tra i più forti portieri europei del ventesimo secolo, posizionandolo al quarantatresimo posto. Nel 2013, è stato inserito nella Hall of Fame della Fiorentina. Grazie per aver scelto il nostro canale, se il video ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti, mettere un like e lasciare un commento. La vostra partecipazione è la nostra fonte di energia, grazie.